Anche oggi sono un po' spietato con le canzoni, ne ascoltiamo solo un frammento di questa perché l'argomento che andiamo a raccontare è decisamente complesso e comunque probabilmente riusciremo soltanto a scalfire la superficie, ma è importante raccontarlo anche perché, ammetto, mi era un po' sfuggita, ma per fortuna il collega di Riforma Claudio Gémona me l'ha segnalato e visto che si è occupato di guardare da vicino questa vicenda mi ha anche proposto di raccontarlo in onda e quindi ci arriviamo proprio questa mattina parliamo di ennesimi processi che seguono quella strage, quella di Piazza della Loggia a Brescia e ne parliamo proprio con Claudio Gémona, benvenuto su Play Buongiorno, buongiorno Alessio, buongiorno al pubblico di Radio Beckwith Allora, come dicevo, una vicenda decisamente complessa io parto con quella domanda che è ovvia, insomma, non si può sfuggire ma immagino che la risposta sia purtroppo molto complicata invece e cioè, siamo nel 2023, com'è possibile che stiamo ancora parlando di processi per questa strage? Eh certo, sono passati 49 anni, il 28 maggio saranno 49 anni è qualcosa di francamente incredibile, ecco, diciamo e purtroppo non era sfuggita solo a te che ne avevi tutti i motivi diciamo che in questi giorni ci sono state un po' di polemiche perché la riapertura di uno dei due processi si è avviato con la mancata costituzione di parte civile da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ecco, una dimenticanza probabilmente più grave perché le istituzioni in questo contesto, su questa stagione ecco, avrebbero molto da dire e hanno ovviamente da mostrare una vicinanza perlomeno alle famiglie che così non è stato per molto tempo esatto, esatto però appunto, questo susseguirsi di vicende giudiziarie è stato decisamente complicato in questo contorto ci sono stati tanti processi c'è anche stata molta, come dire, deviazione di questi processi insomma, non sembra che nel corso dei decenni ci siamo impegnati così tanto a trovare una risposta quantomeno a livello istituzionale a questi avvenimenti e forse abbiamo voluto un po' prendere le distanze e dimenticarci un po' di questa fase della storia brutale del novecento italiano vero, verissimo spesso i protagonisti, il loro malgrado di queste vicende cioè quelle che sono state più o meno le vittime o i familiari appunto dei coinvolti parlano del tempo e del silenzio come il migliore dei segreti perché a forza di dilazionare nel tempo le analisi, i processi ovviamente i protagonisti spesso non sono più con noi letteralmente oppure la portata della rivelazione di alcune notizie che all'epoca sarebbero state probabilmente defragranti oggi a distanza di moltissimi anni hanno un effetto molto minore noi pensiamo per esempio la notizia, la rivelazione di Gladio, di Andreotti nel 90 se resa nota negli anni 60 e 70 quando era pienamente operativa probabilmente sarebbe stata qualcosa di esplosivo conosciuto 30 anni dopo la notizia questo diventa tutto un po' più anacquato e con questi processi sta succedendo lo stesso una serie di protagonisti di quella stagione hanno atteso moltissimi anni per cominciare a spizziche bocconi a rivelare nuovi particolari che hanno portato al processo di queste due persone perché sono due processi distinti bisogna sottolinearlo perché uno dei due all'epoca era un minorenne per cui oggi è un pensionato ma per le leggi italiane lui verrà giudicato dal Tribunale dei Minori che è un'altra delle questioni incredibili lui si presenterà da pensionato davanti al Tribunale dei Minori perché all'epoca era 17enne e quindi questo fa parte della farsa che è diventato tutto ciò farsa no perché la verità va trovata la si deve non solo alle persone più vicine ma lo si deve un po' al paese però certo questi tempi lunghi non aiutano a facilitare il quadro complessivo di quella stagione chiaro, chiaro ti chiederei di andare adesso un po' più nel dettaglio non vorrei parlare di processi così insomma in maniera vaga senza raccontare esattamente di che cosa si tratta si tratta appunto di due processi distinti per due persone diverse coinvolte in quella strage ci racconti un po' meglio di chi si tratta si sono due ragazze all'epoca era appunto uno aveva 21 anni e uno 17 appartenenti a una cellula di ordine nuovo che era questa organizzazione eversiva di destra messa fuori leggi in quegli anni poi ma che sostanzialmente ha continuato a operare cambiando nome, ordine nero ha fatto un po' di rimbalzi ma sempre più o meno loro erano queste due persone sono accusate di essere state fisicamente in piazza quella mattina quindi sono due processi che dovranno giudicare diciamo la parte operativa e non tanto quella dei mandanti o dei mandanti più o meno occulti o degli organizzatori noi abbiamo avuto un processo che è andato ingiudicato nel 2017 e che per quelle stragi è uno dei pochi che ha portato a delle condanne definitive quelle di Carlo Malgi come mandante e di Maurizio Tramonte come uno degli organizzatori questi due processi che riguardano Roberto Zorzi e Marco Toffaloni riguardano appunto due persone accusate di essere fisicamente in piazza e quindi aver avuto un ruolo operativo nella collocazione dell'ordinio il 28 maggio era in corso una manifestazione antifascista magari lo ricordiamo che reagiva proprio a una serie di attentati di misura minore che in quei mesi avevano scosso pesantemente Brescia e la Lombardia in generale quindi si indice una manifestazione piazza piena esplode l'ordinio le vittime sono 8 i feriti sono più di 100 le indagini sono da subito complicate anche se per la prima e unica volta in quella stagione c'è una rivendicazione sostanzialmente da parte di Ordine Nero sull'attentato e quindi poi però le istituzioni parte dei servizi deviati mettono i bastoni fra le ruote facilitano le sfiltrazioni dall'Italia di alcuni protagonisti o possibili testimoni e quindi tutto questo fa sì che il meccanismo della giustizia fatichi pesantemente a ingranare per cui siamo appunto arrivati con delle rivelazioni giunte dopo la chiusura dell'ultimo processo che hanno portato invece a processo a questa nuova questi nuovi due filoni fra l'altro c'è una fotografia che ritraerebbe il Toffaloni in piazza quella mattina e che una perizia antropometrica avrebbe conosciuto effettivamente in lui ecco quel ragazzino immortalato in una delle tantissime foto di quella mattina quale sarebbe una delle prove regine di questi due processi entrambi sono all'estero da molti anni bisognerà capire anche se loro saranno presenti o meno c'è stata una prima udienza la settimana scorsa del processo a Roberto Zorzi che vive negli Stati Uniti da 40 anni ha aperto un allevamento di Doberman che chiama il Littorio perché poi ovviamente tutto diventa macchietta in queste vicende e i suoi avvocati hanno prodotto una memoria difensiva bisognerà capire ovviamente un valore sarebbe anche una testimonianza dei loro due vedremo nello sviluppo dei processi se ci sarà chiaro, chiaro tra l'altro proprio notizia di questi giorni la decisione della Cassazione francese di non concedere le estradizioni invece di militanti di estrema sinistra verso l'Italia bisognerà capire se effettivamente se in questo caso si arriverà ad una condanna si parla se non sbaglio qui di Stati Uniti ecco chissà se in quel caso invece si procederà con l'estradizione o meno vorrei chiudere ritornando un po' ad un tema che abbiamo già toccato ovvero quello di cercare di prendersi le responsabilità proprio a livello nazionale a livello statale di quel periodo fuori onda ci dicevamo che sembra un po' un'abitudine italiana quella di non fare davvero i conti con la storia non l'abbiamo mai davvero fatto a fondo con il fascismo come sembra aver fatto invece meglio la Germania con il nazismo però effettivamente anche per quanto riguarda il periodo quello che chiamiamo degli anni di piombo in sombra sembra che ce lo si voglia lasciare alle spalle senza affrontarlo di petto sono molto d'accordo credo sia molto vero e questo crea un grosso problema di fondo perché quando appare chiaro per carità c'è stato un terrorismo di sinistra che non ha scherzato in quei anni ovviamente però adesso noi stiamo parlando di un altro pezzo di quello di destra che sostanzialmente ha avuto anche delle forti connivenze appunto con apparati deviati dello Stato e quindi la questione diventa ancora più pressante forse per una democrazia il tema è fare i conti veramente con una stagione perché se non la si fa se non si giunge anche una verità giudiziaria può sempre alzarsi in fondo qualcuno e dire ma allora se i colpevoli in fondo non li avete trovati da quella parte non sarà mica che erano da un'altra perché è successo a più riprese in questi anni la strage di Piazza Fontana ne è un esempio i protagonisti vengono assolti nel 95 se non sbaglio con l'ultimo processo in Cassazione e poi saltano fuori tutta una serie di testimoni dopo e qui dobbiamo molto anche al lavoro che inquirenti hanno proseguito e che giornalisti hanno proseguito nel tempo e questi raccontano no effettivamente erano Franco Freda era Giovanni Ventura già processati ma e quindi non riprocessabili per lo stesso per lo stesso reato e questo ovviamente crea un vulnus poi sui libri di storia invece la strage è rimasta impunita e questo il fatto che rende la strage impunita a distanza di decenni può portare qualcuno a dire ma allora ed è successo anche col fascismo l'abbiamo visto eppure lì il quadro probabilmente era molto più chiaro eppure la tentazione di riscrivere la storia c'è e quindi se dei punti non sono fermi questo è un po' rischioso e infatti un po' anche in questi mesi c'è stata una tentazione in questo da questo punto di vista ecco sì esatto c'è stato un po' questo sguardo sarebbe bello approfondirlo ancora purtroppo non abbiamo più il tempo io quindi ringrazio Claudio Gemonà per questo approfondimento magari ci sarà modo di ritornare sul tema più avanti ma per oggi ti appunto ringrazio ti auguro una buona giornata alla prossima è stato un piacere grazie a voi alla prossima ci prendiamo adesso un momento di pausa e ritorniamo tra poco sempre qui su Play grazie a tutti per la prossima